...è il punto che non ho consigliato di intercorso, no? C'è solo un'altra candidatura che ha... Scusa, chi sono? Tu, Viglio Piano e la signora Modessa. Mi sono pure lei, la Modessa e Donrara Sassone. E se ne sono distante. Chi parla a favore e chi parla contro? Chi parla a favore di Guido Piano? Io. Allora, che ci siamo, come c'è? Chi parla a favore e chi parla contro le candidature? Ah, ma abbiamo sulle candidature. Sì, a fare quel Viale. Sì, ma chi parla a favore e chi parla contro? No, 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 no. Chi parla a favore di Guido Piano? Quali sono state parlando a favore? Viale, Capone, Modesti, Sardi, Distasi. E ognuno deve parlare per sé, non dice quello che vuole fare. Prima, a fare sempre a concetto per una discusione civile. Scusate, perché se qualcuno che è stato candidato non vuole fare. Non dicevo candidato, ma non c'è. Io potrei sentire candidato, ma non c'è. Chiudiamo e chiudiamo i cinque candidati, chi si candida per chi no. Perché non è utile che li condiamo. Se non sbagliamo solamente dei voti, voi che c'è. Sì, quelli che stanno a parla hanno detto già tutti di no. Qui facciamo presto a me, perché non è senza ragione. Allora, aspetta, ma siamo testi? No, ha detto di no. E allora, l'unico candidato è potente. Tre. Ma lui non ha detto di no. Sì, ha detto di no. Ma facciamo?